Continua il Summer Tour Movimento 5 Stelle in giro per le località balneari della candidata presidente della regione Campania Valeria Ciarambino. Tante le proposte spiegate ai cittadini e attivisti presenti nella giornata di sabato ad Agropoli, fra queste l'utilizzo dei fondi europei per rifare l'intera viabilità nel Cilento e aree interne. Noi stiamo parlando di temi da oltre un mese, da quando io sono stata indicata come candidato presidente alla regione Campania e la nostra campagna elettorale è tra la gente in questa fase estiva in cui le persone magari non vogliono neanche sentir parlare di politica perché vogliono distrarsi, superare il trauma terribile che abbiamo vissuto. Noi abbiamo scelto di andare nei luoghi dove sono le persone e in maniera molto semplice incontrarle a tu per tu, guardarle negli occhi e raccontare qual è il nostro progetto per la campagna. Siamo nel Salernitano, siamo in Cilento, una terra che io amo tantissimo, non a caso ho scelto di sposarmi in questo territorio. Ebbene, io dico sempre una cosa, il Salernitano è la terra delle opportunità mancate. Questa terra continua a essere trasformata nello sversatoio, nell'immondezzaio, quando invece c'è un parco nazionale bellissimo, abbiamo chilometri di costa, veramente che il mondo ci invidia. Abbiamo delle tradizioni straordinarie e delle peculiarità enogastronomiche, abbiamo scavi archeologici, penso a Belia e Elea che non è adeguatamente valorizzata, potrebbe esserci appunto un museo, qui c'è stata la nascita anche della filosofia. Insomma, è un territorio dove vanno messe a sistema tutte le opportunità, incluse le opportunità delle aree interne che sono opportunità mancate e non è più accettabile che questo territorio venga pesato solo in termini elettorali. Tra le nostre proposte che ho lanciato, anche per il Cilento e anche per le aree interne, c'è quello finalmente di utilizzare i fondi europei per rifare la viabilità. Non è possibile che per percorrere pochi chilometri ci voglia un'ora e rischi di arrivare in ospedale quando sia troppo tardi o i nostri giovani fanno fatica anche a spostarsi per andare all'università. Prendiamo un miliardo di euro di fondi europei, applichiamo modelli semplificati sul tipo del ponte di Genova e rifacciamo la viabilità delle aree interne e delle aree appunto più deprivate dal punto di vista dei collegamenti.